Putin ha vinto le elezioni presidenziali di Russia non c'erano dubbi ovviamente benvenuti a Mappamundi e benvenuta Orietta Moscatelli ciao Orietta ciao a tutti ciao Alfonso vabbè andiamo un po' nelle cifre insomma oltre l'ottantasette per cento di voti Putin ha vinto aveva tre candidati diciamo semi sconosciuti da affrontare insomma non c'era una reale opposizione ricordiamo poi abbiamo dedicato anche una puntata Navalny l'oppositore morto nelle cacce di Siberiane ma ancora prima era morto Prigojic che forse sarebbe stato un'alternativa diciamo più valida agli occhi dell'opinione pubblica russa insomma se voi ripercorriamo insomma tutti gli altri oppositori morti tra l'altro ci sarebbe da fare un discorso anche su tutte queste strani morti no dall'inizio della guerra in Ucraina che avvengono ovunque ma in particolare in Russia insomma persone che cadono da aspettiamo che si allunghi ancora la lista e vedremo dopo però allora intanto dai eh Putin ha vinto le elezioni quindi un altro mandato di sei anni se lo arriverà a completare supererà Stalin come diciamo leader al potere in Russia ovviamente sommando il piedi da primo ministro e da presidente perché si è alternato per almeno rispettare almeno formalmente la costituzione quindi insomma si è appresso a diventare nella storia uno dei leader russi più longevi si avvicinerà a Caterina la grande è lontano però da Pietro il grande altri eccetera allora ehm orietta di Putin diciamo passato abbiamo parlato tante volte che cosa ci si prospetta ora con questo nuovo mandato di Putin allora giustamente hai detto e riassunto il previscito era scontato anche se in queste dimensioni oltre 87 per cento forse non era così scontato ma questo conta relativamente poco è importante il dato sull'affluenza che va oltre certamente oltre i timori diciamo della macchina del potere e anche oltre le aspettative e su questo e su questo ci ci torniamo cosa cambia sul piano interno certamente eh certamente Vladimir Putin oggi eh è più forte è più forte perché ottiene un nuovo mandato di sei anni e il quinto non consecutivo quindi possiamo partire dal quarto di secolo e continuare e questo mandato lo può tradurre lo sta già facendo insomma in approvazione di quanto fatto fino ad oggi guerra in Ucraina compresa e questo forse è l'aspetto più importante eh ma anche perché dopo un anno vissuto piuttosto pericolosamente è un messaggio che arriva anche alle elite cioè a chi gli sta più vicino accanto o alle aspiranti tali c'è un uomo al comando eh investito da un voto plebiscitario ovvero i russi non vedono e non vogliono forse vedere alternativa in questo senso ricollegandomi velocemente alla tua citazione di Ergeny Prigozhin forse ieri è stata rimarginata la quella ferita che era stata inferta al proprio al corpo del potere russo del momento da Ergeny Prigozhin con l'abbozzato colpe o qualsiasi cosa abbia tentato di fare lo scorso giugno. Resta eh che il plebiscito di ieri implica eh e questo lo implica davvero in modo forte perché Putin vi ha molto investito no prima delle elezioni eh sul sul voto patriottico no andare a votare per rilegittimare appunto anche un mandato di guerra quindi implica che la guerra in Ucraina la Russia la Russia di Putin va vinta la deve la deve vincere e o si deve arrivare a qualsiasi cosa che possa assomigliare molto ma molto ad una vittoria altrimenti cambia tutto perché nessun leader russo per natura del potere non sarà mai abbastanza troppo ricordarlo e non sopravvive a a una sconfitta. A una sconfitta. Allora questa è la foto di Putin ha tenuto un discorso anche una conferenza stampa con una tutta una serie anche di messaggi no Rietta? Allora che cosa? Quali sono secondo te le cose più importanti che ha detto? Le cose più importanti sono per quanto riguarda il già citato ma oggi eh insomma è il tema principale di questa di questa elezione è già stato fronte interno eh Putin ha ribadito tante volte eh che la natura del potere la fonte del potere è il popolo che è grato della fiducia ricevuta della fiducia ricevuta insomma ha sottolineato davvero in modo ripetuto prima nei ringraziamenti ai volontari del suo quartiere generale elettorale e poi anche in successive domande e risposte. Ahm questo aspetto è stato molto evidenziato cioè l'aspetto dell'uomo al comando perché lo vuole il popolo e qui dovevamo fare una piccola parentesi altra cosa che non è nuova ma che va eh che va ricordata eh l' atteggiamento del del russo no? Del dell'uomo russo, del popolo russo e quindi dell'elettore medio eh nei confronti del potere in fondo non è mai cambiato, non è mai cambiato dai tempi insomma dell'impero zarista passando attraverso buona parte del periodo sovietico per arrivare alla alla Russia indipendente da da se stessa dopo la fine dell'URSS è un rapporto molto ambivalente e questo forse ci aiuta davvero a capire, a leggere questo risultato perché ehm ti sarà detto e oggi legge da tante parti il risultato è stato gonfiato perché non c'è ehm più dell'ottanta per cento dei russi che vuole Putin al potere e non non ci sono settantasette per cento dei russi disposti ad andare a chiare che governi ancora e che comandi ancora per sei anni. È ambivalente in che senso? Nel senso che ehm da sempre tiene all'interno questo rapporto una miscela che può diventare esplosiva ma una miscela di eh ammirazione e insofferenza anche di disprezzo il russo è sempre pronto e e si ricorda continuamente che il potere eh ti darà sempre poco e ti potrà tradire e ti potrà rifilare tutte le fregature di questo mondo ma deve essere o perlomeno è auspicabile che sia un potere forte perché ancora più pericoloso e più da temere è l'incertezza e quindi in questo voto ritroviamo davvero davvero la natura e anche la contraddizione insita nel rapporto tra elettorato e e vertici russi. Poi un'altra cosa che ha detto Vladimir Putin è che questa è una è una novità ma credo che sia l'inizio di un filone anche parlando in particolare della delle recenti dichiarazioni del presidente francese Macron riguardo la possibilità e la futura eventuale necessità di inviare delle truppe in in Ucraina di qualche tipo quale tipo vedremo se mai sarà fatto e Putin è stato molto moderato uno perché ieri sera non voleva sfoderare no la la vena bellicistica e tantomeno quella retorica sottostante neanche tanto sotto nucleare che ha utilizzato anche nei 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 giorni precedenti alle elezioni ma ha detto sì conosciamo le le posizioni del del presidente francese che vengono da posizioni molto diverse questo non vuol dire che queste posizioni poi non possano nuovamente ma essere modificate ed arrivare ad un altro tipo di quindi Putin cosa sta dicendo sta dicendo in Ucraina noi siamo in vantaggio vinceremo gli obiettivi saranno raggiunti questo è l'altro mantra insomma putiniano da molto più della vigilia delle delle presidenziali e a un certo punto l'occidente che oggi ci critica e dice di non riconoscere insomma di disprezzare il il voto il processo elettorale russo a un certo punto dovrà per forza tornare a parlarci ecco questo io credo che diventerà alternato a delle fasi di toni molto molto diversi molto duri di scontro inevitabile ci sarà una è prevedibile un un'altalena eh tra il lo scontro assoluto e irrimediabile con l'occidente e la necessità di doversi parlare perché è l'unica alternativa è l'armageddon nucleare e allora intanto mostro appunto la carta del fronte ucraino allora secondo te si apre una stagione e forse in questo discorso ci sono i primi messaggi per un possibile negoziato nuovo sull'Ucraina cioè potrebbe essere per putin un momento buono per arrivare al negoziato e chiudere la partita in questo momento in cui appunto è in vantaggio vedete avrebbe insomma consolidato di fatto la conquista della crimea del 20 per cento del territorio ucraino certo non ha raggiunto il suo obiettivo principale che era insomma ehm conquista di buona parte dell'Ucraina per lenderla assolutamente neutralizzare l'Ucraina in tutti i sensi no sia in senso strategico militare di alleanza atlantica ma sia anche proprio neutralizzarlo no come come è stato oppure potrebbe essere questo no è l'altro scenario eh come dire ci cercare di eh approfittare di questo vantaggio che ha ora sul campo e cercare appunto abbiamo parlato tante volte no gli altri obiettivi strategici possono essere Odessa per chiudere il Mar Nero all'Ucraina potrebbe riprovare ad attaccare insomma cercare di conquistare altri territori eh secondo tu come ovviamente non hai la sfera di cristallo insomma perché bisogna potrebbe essere nella testa di Putin ovviamente e poi ne parleremo anche dei sistemi di poter vedere che ci attorno però insomma secondo te potrebbe essere un buon momento per un negoziato e per chiudere in tempi relativamente breve chiudere anche qui relativamente insomma arrivare magari non c'è stato il fuoco non è una pace duratura ma insomma ci sono varie gradazioni ecco nelle varie gradazioni io penso che queste condizioni di una possibile svolta verso qualcosa che si può supporre sarà una forma di negoziato e di sospensione del conflitto insomma la parola pace quella credo che dobbiamo considerarla ancora molto lontana eh però queste condizioni si potrebbero si potrebbero creare dopo dopo la primavera nel senso quando ehm sciolti i ghiacci asciugati il fango e tutto quello che impedisce anche i combattimenti eh la Russia potrebbe tentare di arrivare insomma a quello che comunque persegue da parecchio tempo cioè all'implosione della eh delle forze delle forze ucraine per incapacità insomma di di contrastarlo ieri di contrastare ieri il consigliere della sicurezza della casa bianca Kirby ha detto gli ucraini stanno retrando ehm siamo già alla seconda e anche alla terza linea tra l'altro questo è un messaggio che bisognerebbe un po' decriptare perché è abbastanza bizzarro nel momento in cui l'amministrazione americana invoca questo mega pacchetto di aiuti appeso al al congresso però non si vede insomma sblocco eh possibile imminente quindi dopo una offensiva di primavera eh si potrebbe si potrebbe arrivare a delle condizioni che però il cremino vuole che siano eh le sue condizioni questo è il vero la vera questione sul sul tavolo che eh entrambe le parti in conflitto eh Russia e Ucraina ma anche occidente no che appoggia l'Ucraina e l'Europa in ordine parecchio sparso ma sempre di più chiamata eh in qualche modo a promettere a promettere un maggior impegno anche come in sostituzione in sostituzione del del vuoto che si possa arrivare insomma da parte stati intense eh ecco ehm questo il il problema che abbiamo in questo momento che nessuna parte ora può eh cambiare no la diciamo i propri obiettivi dichiarati eh non si può permettere di formulare un'idea che diventi l'accettazione della sconfitta di fronte ad una ad una ad una ad una dinamica militare eh molto più chiara di quello che abbiamo oggi perché è vero che la Russia è in un momento di vantaggio eh è in un momento di vantaggio ed è anche vero che le dinamiche sul campo cambiano eh o possono cambiare ma stiamo parlando di un conflitto di logonamento i russi avanzano di di centinaia di metri a volte qualche chilometro insomma per la per la città di Avdirka c'è stato ci sono state probabilmente perdite e rumore sia da parte ucraina che da parte russa e questo è un problema anche per la Russia che sì è vero ha disposizione maggiore risorse umane ma non è disposta non si può permettere di pensare ad un esaurimento no delle proprie truppe per che cosa eh per un conflitto che in che in occidente viene percepito come soprattutto basato su degli obiettivi territoriali no arrivare più avanti arrivare ad Odessa arrivare a Kiev eh dal punto di vista dal punto di vista russo eh sarebbe più facilmente accettabile un compromesso anche a ribasso in termini territoriali eh se ci fosse il riconoscimento della dell' obiettivo degli obiettivi di Vladimir Putin e della Russia degli ultimi trent'anni cioè quella di essere riconosciuta nelle proprie richieste nelle proprie dichiarate eh necessità di avere sfere di influenza quindi eh quello che ti dicono a Mosca ma non da adesso da pochi mesi dopo l'inizio della guerra è e quando dico a Mosca è se parli con analisti consiglieri comunque eh persone molto vicine sia al tipo di ragionamento che si fa al Cremlino sia proprio a a figure insomma del del potere circolo di potere ti dicono beh se c'è un cambio di mentalità tutto eh si risolve allora siamo di fronte a un calderone di elementi che potranno portarci da una parte o dall'altra ma anche questa no fuga in avanti di di Macron che tra l'altro irrita giustamente parecchio l'Italia in in particolare eh è estremamente ambigua allora si dice eh perché il presidente francese vuole ripristinare l'ambiguità strategica di cui Putin fa ampio e anche sapiente uso sì ma dopo che cosa c'è la strategia occidentale è tutta dal di là di venire un altro ultimo eh indizio è che è vero che Vladimir Putin eh punta e investe su Donald Trump e su quello che Donald Trump dice un giorno sì o un giorno no in termini di disimpegno rispetto alla Nato e rispetto all'Europa ma eh da politico tradizionale e abituato eh dichiaratamente conservatore della scuola del KGB per cui il nemico è meno nemico se lo conosci eh il criminio di Putin teme l'imprevedibilità di Donald Trump per cui secondo me il l'anticipare l'anticipare un incanalamento del conflitto verso una qualche forma di negoziato e di scenario di congelamento prima delle elezioni presidenziali proprio pensando che poi magari arriva Donald Trump eh ecco questo potrebbe essere un incentivo e non il contrario in questo so insomma sono voce piuttosto isolata ma è un ragionamento eh proprio di scuola di scuola a a Mosca di scuola nel KGB nell'entourage di di Putin ancora dai tempi in cui dicevano in fondo in fondo sarebbe meglio Hillary Clinton perché sappiamo cosa andiamo incontro e poi è stato Donald Trump allora intanto ricordo il tuo libro Putin e Putinismo in guerra e diciamo eh nei tuoi articoli sull'IMES ecco mostrò questo schema sul potere di Putin no il sistema di potere eh insomma di qualche tempo fa allora come cambia dopo questa elezione il sistema di potere come dire ha risolto anche la crisi interna perché alla fine Prigogin faceva parte no di questo sistema di potere non era proprio nella primissima cerchia però comunque no c'è stata un po' una frattura anche interna allora secondo te sono state risolte queste 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 problematiche interne potrebbe esserci un ricambio all'interno di questo sistema come insomma il tuo termonico che dice no diciamo che quella carta che Laura Canali pazientemente insomma aggiorna praticamente ad ogni numero di di l'IMES non perché ci sia una rivoluzione all'interno del sistema di potere russo anzi ma perché ci sono questi continui sali e scendi no nel favore e nella nel minore insomma nel minore vantaggio di una fazione dell'altra uno perché eh queste diverse componenti del potere poi sono costantemente in competizione e spesso e e anche volentieri in conflitto aperto tra di loro e perché tanto più in tempo di guerra eh quello che accade al fronte e all'interno in relazione al fronte conta quindi dopo eh dopo la marcia la tentata marcia di Prigojin verso Mosca eh è salito in quello schema del potere eh il il peso della della guardia nazionale ad esempio ci saranno delle novità all'interno proprio di quel di quella galassia e anche di quelle caselle del potere sì ci saranno se ne parla tanto da una settimana girano anche voci proprio di siluramenti eccellenti pronti di di questa no in esplosione nucleare a livello di posti del del potere insomma consiglio di mettersi sempre eh guanti e pinzette magari pinze anche piuttosto lunghe ma ci sarà ci sarà per diversi motivi uno perché il sistema ehm il sistema putiniano eh nel suo volto e anche nel nei volti dei più vicini no del cosiddetto cerchio magico se ancora lo se ancora lo è in buona misura lo è è un volto senescente molto anziano insomma Putin eh ha passato ampiamente ha passato i settant'anni insomma va per i settantadue ma sono il ministro della difesa il i capi del dei principali corpi di intelligenza e sicurezza sono dei suoi coetanei quindi ci sarà l'immessione di qualche volto giovane che corrisponderà tra l'altro ad un rinnovamento che all'interno degli apparati quindi di chi non si vede ma lavora è in corso da parecchio tempo è in corso parecchio tempo tra l'altro con ehm l'inserimento di di risorse parecchio giovani trenta e quarantenni i cinquante qualcoseni sono un po' una generazione è una generazione un po' oscurata non oscurata c'è stato quasi un salto generazionale perché c'è eh Putin e i compagni di classe che a un certo punto hanno cominciato a recutare ma già tra i giovani e ci sono i figli infatti uno dei più chiacchierati si si vocifera di una sua nomina a primo ministro su cui rimarrei cauta vedremo è il figlio del il figlio di Nicolai Patrushev Patrushev scusate eh e quindi del del segretario del consiglio di sicurezza il figlio Dimitri eh viene considerato il prossimo premier io penso che vice premier sarebbe una carica più possibile di nuovo vedremo eh perché innanzitutto è il ministro dell'agricoltura l'agricoltura del settore che meglio se l'è cavata che più ha dimostrato la la capacità di reagire alle sanzioni internazionali e di arrivare ad una forma di autosufficienza e di autarchia poi perché è figlio di 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 suo padre e perché da molto tempo viene indicato come un possibile successore non è operazione successione non ancora però eh Patrushev junior certamente ha tutte le caratteristiche compresa quella imprescindibile della eventuale approvazione del blocco dei silovichi quindi di militare intelligente e quant'altro per eventualmente prendere prendere in mano il paese dovesse accadere qualcosa di improvviso al al numero uno e mentre per legge per costituzione al momento se questo dovesse accadere i poteri passano temporaneamente nelle mani di Michael Nishustin che è il il primo ministro eh che viene considerato licenziabile Nishustin ha lavorato molto bene è vero che è defilato rispetto alla alla propaganda alla mobilitazione politica per per la guerra in Ucraina ma è uno di quei pochi che hanno licenza di parlare poco tendenzialmente mai della guerra proprio perché è concentrato sulle questioni pratiche tra l'altro nel nel suo discorso di fine febbraio alle alle camere del parlamento che è stato praticamente un manifesto elettorale di Putin ma un manifesto elettorale per i prossimi sei anni per i prossimi sei anni il presidente ha annunciato una riforma fiscale e Nishustin è l'eccellenza di in termini di di materia fiscale tanto che prima che la Russia diventasse eh diventasse insomma il paese con con cui non si può più parlare eh Nishustin aveva le prime pagine del financial time prime pagine no ma sono lunghe pagine del financial time per come l'uomo che riesce a far pagare le tasse a tutti anche ai russi ci saranno parecchie nuove parecchie nuove nomine proprio nell'ottica un pochino di un del rinnovo e due della eh del proiettare il paese verso una fase che economicamente eh sappiamo sino ad oggi insomma la l'economia russa ha stupito per resilienza capacità di adattamento ma che a un certo punto dovrà arrivare a delle nuove forme di equilibrio proprio perché la mobilitazione economica in economia di guerra poi crea sta creando o comunque creerà degli degli squilibri eh per cui insomma eh ci saranno dei cambiamenti. Un altro personaggio molto interessante di cui si parla tra l'altro anche nel nel penultimo numero di di Limes è Sergei Chirienko il numero due dell'amministrazione presidenziale quello la persona addetta proprio alle questioni interne e quindi anche alle questioni elettorali che forte della vittoria plebiscitaria di Vladimir Putin adesso eh può aspirare ad una carica più alta o più eh diciamo esecutiva comunque questo lo vedremo. Eh sì insomma un periodo così lungo no di potere ovviamente la successione poi sarà molto complicata più lungo il periodo più più sarà complicata con aspetti anche imprevedibili però ecco avremo tempo di parlarne perché insomma non mi sembra non mi sembra imminente. Il dicevi hai citato prima l'Italia quindi volevo intanto mostrare la copertina di Limes che trovate in edicola e libreria una certa idea d'Italia e tu qui firmi insieme a Mauro De Bonis un articolo proprio sui rapporti tra Italia e Russia ricordo questo è un volume che ha idee e progetti appunto per Italia quindi si affrontano vari argomenti dall'economia all'immigrazione al rapporto dell'Italia ovviamente nel nel mondo con vari con vari soggetti insomma tu e Mauro De Bonis vi concentrare sul rapporto tra Italia e Turchia ovviamente l'invito è a comprare e comprare il volume per leggere per intero l'articolo anzi tra l'altro ricordo che nei prossimi giorni uscirà anche un tuo articolo su Putin e le elezioni sul sito il nuovo sito di Limes quindi vi ricordo anche di andare appunto sul sito per gli abbonati digitali c'è una parte gratuita ovviamente ma c'è una parte consistente appunto per gli abbonati digitali dove potete approfondire tutte queste tematiche ecco allora insomma non anticipare tutto ma dici qualcosa appunto dei rapporti tra Italia e Russia in questa fase. Ecco non anticipiamo molto come non anticipiamo come andrà a finire anche perché non lo sappiamo ovviamente ma in in questo momento l'Italia è in una sospensione come d'altronde insomma gran parte del dell'Occidente ma una sospensione molto importante del se vogliamo anche del rapporto non univoco come è stato raccontato spesso un po' troppo volentieri in questi anni tra Russia ed Italia. Storicamente la Russia ha una grandissima fascinazione insomma per per il nostro paese questo su basi culturali che insomma che ci porta indietro ai tempi di dei dei grandi zadi di Pietro il Grande e di Caterina Seconda ma se vogliamo trovare una cifra quello che cerchiamo di fare nell'articolo che hai citato una cifra costante dei dei rapporti tra Italia e Russia che sono stati Italia soprattutto l'Unione Sovietica nella 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 fase più ehm qualificante diciamo il questi rapporti sono stati caratterizzati da una eh ricerca da una ricerca di un di comuni interessi anche nella profonda diversità e divergenza non solo nell'appartenenza a diversi blocchi in epoca in epoca sovietica ma anche in una apparente divergenza dei eh nelle diciamo nella costruzione delle delle alleanze e delle e nell'essere dentro le alleanze per cui l'Italia del dopoguerra con Mattei capo dell'Eni è la prima è il primo paese che eh va in Russia e allaccia un rapporto energetico che praticamente è continua anche se ormai a mini termini eh è durato in è durato ed è stato strategico sino alla all'invasione dell'Ucraina e e questo perché Mattei come un'Italia che oggi fatica a ritrovarsi tale un un'Italia del del dopoguerra ehm riusciva a guardare agli interessi strategici nazionali anche all'interno della propria eh sfera di appartenenza che era quell'Atlantica che rimarrà quell'Atlantica per decenni e che rimarrà ancora da adesso in poi eh eh quell'Atlantica cosa che l'Italia oggi eh fatica a fare che dovrebbe ricominciare a fare su questo noi insistiamo molto all'IMES spesso veniamo anche un po' malinterpretati mh nessuno propone anche perché non ci converrebbe non saremmo in grado di sostenere l'uscita dell'Italia dalla Nato ma ehm si riflette molto eh sulla invece opportunità di stare dentro la Nato in un modo più richiedente e più propositivo perché noi quella Russia con cui oggi non abbiamo eh praticamente più più rapporti è una Russia che arriva a metterci nella lista dei dei paesi ostili usando anche una parola un pochino più avanzata verso la scala dell'essere nemico dell'essere nemico quella Russia ce la ritroviamo in Libia eh ce la ritroviamo forse ce la ritroveremo con una anche base marittima in Libia ce la ritroviamo a essere partner privilegiato di quell'Algeria che praticamente ha sostituito la Russia come fornitore eh fornitore di energia all'Italia ce la ritroviamo molto vicina e molto capace di dialogare e fare eh commerci di vari tipi di genere con la Turchia ce la ritroviamo poco nel nei Balcani meno di quanto si possa pensare ma molto nella fascia del Sahel da cui arrivano tutta una serie di problematiche per l'Italia quella migratoria innanzitutto quindi in questo in questo articolo eh arriviamo a dire una cosa banale che però oggi eh a volte viene presentata come un'eresia è quella che prima o poi e forse il prima è la è la parola più auspicabile con la Russia bisognerà tornare a parlare a parlare perché eh il paese più grande del mondo rimane oltre a essere la principale potenza nucleale rimane in vicino di casa dell'Europa e l'Italia ha parecchio eh da perdere dallo spostamento del del baricentro dell'attenzione della risorse delle iniziative della Nato verso il nord est e i confini settentrionali della Russia. Allora perfetto grazie Eretta del tuo tempo io insomma vi ricordo il sito il volume di Limes la scuola di Limes dove ovviamente sei sei docente dove la Russia e la guerra in Ucraina ha grande importanza il 25 marzo si chiudono le iscrizioni ed aprile comincia il corso anzi ringrazio tutti per le tante per le tante candidature che sono arrivate. Eh Oretta allora che dire ovviamente ci rivedremo per parlare di Russia e eh alla prossima. E alla prossima. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti